Ok, possiamo già craftarci la spada di diamante, abbiamo iniziato benissimo, guardate qua, hu hu, ok, io sono quasi full iron, oddio, Andrea hai gli stivaletti in iron, merda, no, non ce li ho, non lo so se ci conviene stare qui fino al chest, no, no, non ci conviene, oppure sì, non lo so, hai la diamo sguardo, sì, sì, solo che Ho anche un arco e 5 frecce Vabbè ragazzi, siamo già a 3 video con la vetta, o 2-3 video, non lo so, con la vetta del nostro canale, perciò, oh c'è uno lassù nell'albero Dove? Un albero gigante, qua su, è qua su, uccidiamolo che è full pelle, misero a me, è qua su, guarda, è in questo albero qua su Quale? Vedete? Una scala dall'altra parte dell'albero Non subisce danno, merda, lag Ha un elmetto di iron, mi servo a me Preso, preso No, ma ha cambiato arma, e non è buono questo Dove sei? Merda, quante frecce ha? Dai, non sciupare tutte ste frecce, tanto sei potuto Ah, è qua Ma non muoio Oh, puttano, mi uccide questo Andrea, stai lontano Tanto è morto Oh, muoio io Mi ha ucciso Ok, eh Siamo morti tutte e due Che sfiga è mai questa? Siete messi male, ragazzi